sono giuseppe magi e sono nato in italia in toscana sulle montagne della garfagnana sono un artista e faccio le statuine di gesso quando avevo 16 anni con i miei tre fratelli più grandi mi sono lasciato alle spalle i miei genitori e i miei amici chiudendo la porta di casa e salutando le montagne perché qui non c'era un futuro né un lavoro e nemmeno il pane grazie